I confini tra umano e macchina, naturale e artificiale, perdono ogni valore ontologico e l'uomo diventa letteralmente permeato e penetrato dalla tecnologia. Parte da questo assunto il nuovo progetto di dossier di Pesero 2024. Si chiama Reali Meraviglie e coordinato dall'Associazione Umanesimo Artificiale che attraverso esperienze performative e immersive di forte impatto visivo metterà al centro le tecnologie esponenziali del presente e prossimo futuro. Una riflessione portata avanti attraverso artisti internazionali con un primo appuntamento dal 29 al 31 marzo a Fano nella Pinacoteca San Domenico. Gli appuntamenti inizieranno questo weekend, 29, 30 e 31 a Fano alla Pinacoteca San Domenico in cui avremo Neil Armisen e Paul Lombarte che sono due cyborg. Neil Armisen tra l'altro è anche famoso, l'avrete visto, immagino perché è quel cyborg che ha un'antenna in testa e faranno un laboratorio, quindi costruiranno, modificheranno un pianoforte con delle lampadine, dei piezo elettrici e Neil lo utilizzerà per suonare sabato sera alle 21 alla Pinacoteca San Domenico di Fano e farà questa performance per cui attraverso questa sua antenna lui sentirà i suoni perché ha questa forma di daltonismo per cui vede il mondo in bianco e nero e quindi questa antenna gli fa percepire i colori. Questi colori, le frequenze dei colori si trasformano in dei microtoni che lui sente all'interno del suo cervello. Quindi suonerà questo pianoforte, si illumineranno queste lampadine colorate e poi lui punterà la sua antenna e nelle casse si sentirà quello che lui sentirà nel cervello. Quindi una performance unica, non l'ha quasi mai fatta a livello internazionale e quindi venerdì dal pomeriggio, sabato tutto il giorno ci sarà questo laboratorio per cui chiunque vuole può venire ad aiutare Neil a costruire questo pianoforte e poi sabato c'è questa performance, performance è ingresso gratuito senza prenotazione quindi invitiamo tutti a venire.